Quali sono i temi che ha portato in rappresentanza della cooperativa Hotel du Nord in Francia all'ottava edizione di Ravello Lab? Fa anni che io seguo i lavori di Ravello Lab perché è un spazio dove in principi europei nuovi, innovativi, qua c'è un confronto interessante tra delle gente che hanno delle responsabilità a livello istituzionale ma anche gente che fanno delle pratiche, è un spazio veramente dove si può pensare e si prende il tempo di pensare e per questo io sono stato contento di essere invito a partecipare, a contribuire a questi dibattiti che sono a una scala europea e anche perché siamo in un luogo molto bello e ricco di storia. Per quanto riguarda la collaborazione e la cooperazione fra i paesi europei, quindi fra l'Italia, la Francia nell'ambito della valorizzazione del territorio, che cosa si può dire? L'Europa ci permette di uscire ciascuno del paese dove siamo e di pensare anche a quello che cosa è stato creato l'Europa, creare un ambito di pace, di convivanza e questo per noi è veramente a Massilia un punto di appoggio che ci aiuta a avere una prospettiva a lungo termine e anche di condividarla con altri paesi dell'Europa e anche al di là dell'Europa anche del Mediterraneo e questo c'è l'Europa e veramente bisogna tornare al progetto che è stato dall'inizio quello di fondazione. Sì, grazie.